Mare perdi troppo tempo a fare come ti pare prima di assumere la posizione corretta troppo tempo, è il motivo per cui sei sempre in anticipo e in ritardo a casa quello va bene Dario, bravo ferma in posizione e da lì slanci le braccia in alto e in basso facendo il primo passo senza andare indietro e rispare le braccia perdi troppo tempo bisogna andare indietro in tutto l'arco dorsale per le braccia prepara Dario ha incrociato le braccia, si è partito completamente a casa perché non ritorni Alberto è la parte della schiena presa, non c'è il gesto né la rincorsa preparati veloce dal basso verso l'alto oscilli due volte le braccia per quello che non è il tempo di saltare vuoi fare, non partire, si sta partito sglierete i foroni sei due metri di uomo se sei afico di tira la rete se sei afico di tira la rete porca puttata è quasi un gioco d'attacco ci siamo Marco la rincorsa d'attacco veloce la rete, veloce la rete Dario veloce la rete, che cazzo ti guardi l'appoggio tanto fa schifo e niente, presa tu fai, guarda, puoi fai ma tu lo vado giù ma non lo vedi neanche il campo non c'è verso la schiena libera e che penso che l'hai fatto di meno mettile più a piedi uscita e salta salta e guida il piede salta e guida il piede la rincorsa a tagliare di qua poi la ripeto e poi la asciuta per sale ma però la risposta è inizio la città non c'è la città 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 mi mette fa schifo lo salta il lupo sulle punte dei piedi la città per favore evita fino a che non te lo vedi il piede va bene? si grazie così cazzo è giusto che ti ha detto male non è di prova se non cazzo guarda che la spazio quando la parte spazio quando io posso prendere la parte il punto più alto l'Italia non partirà mai bene perché lui ha prima che fa due basse poi salta sempre indietro tu gli fai sempre in ritardo perché lo metti in posizione dopo la difesa posizione della visa perfetta poi pieghi le braccia basti 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 le braccia la colpa è l'azzo anche lui potrebbe fare gli appoggi più comodi perché sono qua questo è già stato vicino questo è già stato bravo sicuramente quella non la fa da tirare per fare in qualche più un'altra avrebbe appoggiata però tirri più stretti con il mezzo anche lui fa l'inchia finisce il gesto macchione ci siamo devi fare questo in avanti quindi è questo da Luca non sta a fare in avanti con il primo di tessi si 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 ehi puoi partire, ma non faccio ehi puoi partire, ehi puoi partire ehi puoi partire ehi puoi partire gesto al tasco non clavato non alzare, non inclinare la schiera stai, dritto la prendi dritta non devi fare dritta il gesto di rincorso è il gesto al tasco bravo Neruda vicino a te non attassare il braccio Alberto vuota il contrario questa palla apri lungo linea, presia se tu non hai voglia di saltare, tieni in rete come tutti gli handicappati grazie non trovi nel giro manca la rinforza e il salto per me se si andrò sulla punta dei piedi con i polpatti salta e fai il gesto c'è la palla perfetta per il giro vicino c'è la palla della stella c'è la palla di rinforza all'ultimo momento che è più grande è più grande è più grande il giro si 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 Marco, la rincontra al tappi. Quella è perfezione assoluta. Stai ricercando tutti i modi per evitare di fare risposta bene. Non si può fare. Vai, vai, Pierrot! Non si muove in un pano! Raccogliamo con la porta, Pierrot! La mano aperta non spera di incontra l'attacco. Non c'è il gesto d'attacco. Mi sono perso a guardare la palzata. Non c'è un uccione. Non c'è un uccione. Non c'è un uccione. Non c'è un uccione di farlo. Non c'è un uccione di farlo. Buon aperto, Paolo! Non c'è un uccione di farlo. Non c'è un uccione di farlo. A presi! Facino! Quello va bene, Pierrot! Quello possiamo crescere. Non serve un cazzo da lui. Non ci fa la ricorsa perfetta. Non ci farò mai più di farlo. Non ci farò mai più di farlo. Smettia di portare la gamba inclinata. Non viene solo quella garcia. Basta! Beh, in mezzo di parallelo. Prego! Se non è vero, vada vicino. Si! 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 Apri! Si! 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 sei mai usato i muscoli potenti? Solo quelli a caso! Per non cazzarli. Apri! Ma siete e un'altra 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 bene 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 la parla vicino 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 bene devi stare basso per il riparcio basso uuuuh cambiato riparti non sei tuttavia non sei non sei bravo alberto vicino ah chi è schifo noi vicino vicino salta in alto in lungo io ahahah ahahah ah 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 adesso 40 vicino 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 non puoi attaccare per pallone vicino 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 cominciamo vicino vicino cinque non aspetti non metti un salto in lungo e fuori non tirare le spalle al bravo non tiri più forte poi lo tiri giù e lo tiri giù ci sono le braccia tu fai così si ma non fanno mai le fermiamo il passo è così tutto contrasto in schiena e non sto riuscendo a farlo non sto riuscendo a farlo allargati non riesci allargati non farai mai attaccare si 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 0 quindi il generale deve essere fa in linea almeno bravo, bravo, bravo vicino 0 0 allora quando qui è passante non mi dispiace ma è capito che vogliamo dire che vogliamo far trova eh, e semplicemente non devi farlo eh no non mi dispiace ma non mi dispiace ma non mi dispiace ma è questo ma è saltare così a braccia stelle ma è un po' stesso vieni in su vieni 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 stop pallone in sacca allenamento finito vieni do Niente Grazie a tutti.